Si ricomincia. Ancora una grande squadra, Carlo. Irranno facili con tutti quei campioni, ma loro hanno già vinto tutto. Dovrò farli ricominciare da zero, con lo stesso entusiasmo dei ragazzini, ogni giorno. Perché ogni singolo giorno può cambiare tutta la nostra stagione. Il calcio si vive ogni momento. Vivilo insieme a noi. Sky Sport. Per amore dello sport. Grazie.